La CGA di Mestre accende riflettori sull'utilizzo dell'acqua. Il dato elaborato dall'Ufficio Studi deve far riflettere. In Veneto, riferisce alla struttura, ogni 100 litri d'acqua immessa nella rete per usi civici ne arrivano all'utente 57,8, gli altri 42,2 si perdono lungo le tubazioni che in alcuni territori non godono di buona salute. Un dato comunque in linea con quello medio nazionale. In termini assoluti, puntualizza ancora la CGA, ogni giorno in Veneto si mettono nella rete idrica circa 1,75 miliardi di litri d'acqua, mentre la dispersione ammonta 740 milioni di litri. Il dato peggiore tra i sette comuni capoluogo di provincia lo presenta Belluno, dove, fa sapere l'Istituto, il 64,2% dell'acqua emessa in rete non arriva nei rubinetti delle utenze presenti in città. Tra i 109 comuni italiani monitorati, la realtà dolomitica si colloca al decimo posto. In Veneto si disperde oltre il 42% dell'acqua che viene immessa nella rete. È uno spreco che non possiamo più permetterci. Per efficientare la rete idrica regionale bisogna aggiustare le tubazioni, ammodernare il sistema irriguo nel settore agricolo e aumentare la depurazione delle acque reflue da riutilizzare nel sistema produttivo. Grazie al PNRR abbiamo a disposizione oltre 5 miliardi di euro da spendere a livello nazionale per mettere a terra tutti questi interventi. Dobbiamo fare presto e bene. Il futuro dell'agricoltura e di molti settori produttivi del Veneto ad alta intensità di utilizzo dell'acqua sono fortemente a rischio. Grazie a tutti.